Il buon Alfonso Signorini, vi ricordo che nel settembre 2023, mancano ormai diversi mesi, settembre infatti è 09, siamo a 04, attualmente parlando quindi aprile, ebbene è stato confermato come il conduttore, ancora una volta, del grande fratello VIP. È stato lui stesso, proprio ieri, 3 aprile 2023, durante l'ultima puntata, durante la finale del GF VIP, a annunciare a tutti, nessuno escluso, il fatto che sarà lui il conduttore della prossima edizione, ancora una volta, del grande fratello VIP, che vi ricordo ci sarà, o meglio, si pariserà a settembre dell'anno 2023, quanto manca aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, fra 5 mesi di tempo. Troveremo in tv, su canale 5, ancora una volta, il GF VIP, e Alfonso Signorini sarà il conduttore, ancora una volta, anche perché sembra si essere esegavata molto bene, come in ogni GF VIP che si rispetti, nella conduzione del programma in questione. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, carissimi utenti di YouTube, iscrivetevi, commentate, comprete al buon Alfonso Signorini. Ciao a tutti.